salve ben ritrovati una nuova puntata di marcabili al solito tanto tante tante cose da analizzare tanta carne al fuoco partiamo dalla serie B nazionale dove si sono un po' scambiati i ruoli Iesi e Fabriano la general contractor lanciatissima quinta vittoria consecutiva quella raccolta eh nello nello scorso fine settimana Iesi che ormai ha trovato il suo assetto definitivo e non vuole non vuole più fermarsi diciamo Fabriano invece al contrario ehm sembra un po' in frenata anche il il calendario l'avevamo detto avrebbe sicuramente condizionato un po' il cammino delle delle nostre due squadre e appunto adesso sta favorendo Iesi e Iesi lo sta lo sta sfruttando diciamo in questa fase no Fabri? Sì Paia diciamo che niente di nuovo sul fronte occidentale come si usa dire nel senso che comunque abbiamo eh per la innesima settimana ci troviamo a parlare di una di una Iesi a questo punto partiamo da Iesi per per il filotto di vittoria che conquista una una vittoria questa volta anche fatta di solità difensiva su un campo comunque non banale come quello di di Ozzano e lo fa con le armi che in questo momento sono le 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 sue armi insomma ecco una rotazione molto ampia e soprattutto i soliti due giocatori che io sto apprezzando veramente personalmente tanto cioè parliamo di Casagrande e Rossi con appunto sia dal punto di vista del solito discorso dell'equilibrio eccetera eccetera ma anche dal punto di vista delle prestazioni individuali quindi una giornata in cui bastano 60 punti sostanzialmente per vincere la partita entrambi non per citano ma non è tanto la produzione che mi interessa proprio tutto quello che danno alla causa in termini di rimbalzi atletismo capacità di cambiare morfologia alla squadra insomma le solite cose che noi ripetiamo da cinque settimane probabilmente che comunque stanno facendo di questa Iesi una squadra assolutamente in gas nonostante non ci sia stato bisogno di una prestazione allucinante di Merletto e Marulli sostanzialmente no quindi hanno fatto hanno fatto il dono. Filippini ancora usato un po' con il contagocce per non rischiare ma anche perché per conformazione fisica questa squadra comunque ha dei vantaggi quando va magari con Barraschini nel cinque Casagrande da quattro per dire e quindi per l'ennesima settimana siamo qui a parlare di una Iesi assolutamente convincente. Sì, Iesi che ha strappato un po' nella seconda parte del terzo quarto in una partita che di fatto era stata sostanzialmente equilibrata sul campo di Ozzano appunto ha creato in quella parte un parziale di 12-13 a 0 ma appunto in quella fase insomma ha creato quel vantaggio che poi si è portato avanti fino alla fine senza più veramente rischiare qualcosa. Iesi che appunto continua a mostrare grande solidità un percorso decisamente in crescita Fabriano invece al contrario un po' sta tirando il fiato una partita con Chieti è partita bene la Ianos sembrava poter 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 avere comunque tutte le carte per giocarsela fino in fondo un po' mollato la presa invece al contrario nei minuti nei minuti finali è mancato tanto a livello offensivo Bedin che ha portato alla causa se non sbaglio 13 rimbalzi e anche diversi assist però zero punti è veramente un po' troppo poco insomma da quel punto di vista anche se non è certamente lo scorrere il terminale principale di questa squadra si è rivisto Negri ad altimi livelli uscendo ormai stabilmente dalla panchina anche se comunque sta avendo alti e bassi veramente alti alti e bassi bassi insomma e verosimilmente anche perché in condizioni magari non lo è ancora a pieno sta in ciocent'anni bene ma non alla grande come altre volte è chiaro che Fabriano se non gira al massimo con i suoi big poi su un campo come quello di Chieti che al di là delle difficoltà societarie sussurrate più o meno sussurrate resta una squadra di ottimo livello e ci sta che vai a perdere lì partita che potevi tranquillamente perdere ricordiamoci che questa Chieti è una squadra costituita per vincere e se non è lassù probabilmente qualcosa a livello societario anche c'è e che quindi si insinua nella testa un po' dei giocatori stessi insomma ci sono più di una voce che parla insomma di qualche difficoltà da questo punto di vista e partita che tutto sommato Paia io mi sento di dire Fabriano ha giocato alla pari per larghi largissimi tratti partita molto bene trascinata da cent'anni che secondo me sentiva il confronto diretto con Ciri Beni era stata anche la scelta di Chieti in estate tra cent'anni Ciri Beni quindi diciamo anche stimolato dal confronto diretto hanno fatto entrambi una buona prestazione ti devo dire onestamente Chieti tanta tattica da entrambe le parti zona uomo difese anche più o meno miste una politica anche bella da vedere sicuramente due squadre che difensivamente possono dare di più ma non troppo invece sono due squadre prettamente offensive per Chieti io continuo ad avere un apprezzamento importante per per Suppi ma non ovviamente non è ovvio che Abriano l'ha vinta maggio ok da punto di vista di Chieti però io questo Suppi non me lo aspettavo a questo livello e ci stava poi alla stragrande ordinato pulito difensivamente strasolido e non era non era assolutamente scondato che fosse così vince Chieti perché più lunga perché ha trovato protagonisti diversi perché comunque ha tante bocche da fuoco tante armi diverse anche qua tante conformazioni diverse ho detto Fabriano troppo poco da vedere ma in realtà non è neanche stata proprio la sua partita nel senso che comunque sia anche ha toccato pochi palloni lui è un giocatore che ha bisogno di tanti palloni perché molti li sprecano nel senso cioè non li sprega comunque non è quel giocatore come granice che tocca dieci palloni otto li manda bersaglio lui ha bisogno di più tocchi anche semplicemente non tiri ma tocchi di palla no quindi blocco rollo la rilapro eccetera eccetera e è un po' mancato se vi sono discreto giombini forse il miglior giombini della stagione ti voglio dire ha preso filucci attiva tre punti subito pronti via canestro non mi è dispiaciuto anche lui può crescere molto partita che tutto sommato paglia poi perdere tranquillamente con un avversario di livello assoluto sì adesso per jesi comunque è l'occasione anche di portarla avanti questa striscia positiva partita contro l'altra l'altro fanalino di coda vicenza e al di là delle delle prediche di calma però ovviamente jesi adesso deve cavalcare il momento jesi ha agganciato fabriano acqua da 12 punti le squadre sono appagliate al quinto posto quindi pienamente dentro la la zona la zona playoff diciamo la zona delle prime le prime otto e per fabriano invece il problema è che adesso si arrivano due partite casalinghe ma contro le prime due della classe roseto e ruvo che sono state che quelle che fino ad ora hanno impressionato di più veramente capri orestamente sì due squadre che roseto ci ha messo un po un paio di partite per riassettarsi anche perché comunque il mercato l'hanno finito stranamente tardi per una squadra che vuole vincere il campionato e mentre ruvo veramente uno schiacciassassi importante insomma la squadra lunga completa dichiaratamente costruita per per salire però ripeto fabriano ce l'ha la possibilità di giocarsene alla pari cioè non parte battuta con con nessuna delle due già portarne via una delle due sarebbe sarebbe un buon risultato mentre jesi l'occasione ghiotta come dice rizzitiello non è l'avversario più ostico perché ovviamente non è l'avversario più ostico però è l'avversario peggiore in questo momento nel senso che magari sai se cinque vittori di fila arriva sai dai quasi per scontato che arriva alla sesta poi non è così perché poi tutte le partite in questo campionato così come in b2 molto livellato te le devi andare a conquistare quindi per jesi importante mantenere la concentrazione alto anche perché vicenza le due vittorie le ha fatte con chiedi e sansevero quindi con due squadre che sono appunto di quella fascia lì di quella di di fabriano e jesi appunto e quindi partita da da tenere appunto in debita considerazione in scendendo in serie b interregionale è stato un altro un altro weekend decisamente turbolento perché è cambiata di nuovo la la vetta della classifica il bramante ci ha lasciato le penne nella sulla prima del nuovo corso del della braderm roseto la cura castorina almeno nell'immediato fatto ha fatto effetto un rigeneradissimo maretto che è andato vicino alla tripla doppia ha completamente devastato il il bramante che quindi eh si è visto agganciato in betta dall'allei matelica matelica che invece ha riscattato il eh K.O. di Porto dei Canati andando a vincere non senza soffrire peraltro a dispetto del del punteggio sul sul campo del Pisaurum quel quattordici punti di scarto finale si sono creati negli ultimi minuti per il resto la partita è stata assolutamente equilibrata anche se eh matelica è stata per lunghi tratti eh in vantaggio e rintuzza appunto anche il il Loreto che sfrutta invece il il turno favorevole batte in maniera nettissima il Cabstamo-Rancona resta anzi accorcia a meno due sulla sulla vetta della classifica e appunto domenica arriva il big match tra Matelica e Loreto le le due un po' programmate per vincere di questo di questo torneo. Sì tutto questo caduto anche di Senigallia che secondo me aveva una grossa occasione di andare a vincere a Teramo senza Di Paolo che comunque è un'esterno importante per loro invece un'ottima prova di tutti gli altri ha portato a una vittoria sempre sul filo di lana che insomma ecco per Senigallia ha un po' il sapore di occasione persa di poter eh recuperare due punti verso la vetta che comunque eh erano importanti per Civitanova purtroppo continua un momento assolutamente negativo di derivanti dal fatto che è la quarta partita che perdiamo all'ultimo tiro e in questo momento gira così speriamo che cambi presto insomma tra l'altro di Serafini si era parlato di rottura del del crociato su quel sfortunato incidente di settimana scorsa con Brigato che gli casca ad osso invece sembrerebbe gli esami hanno escluso un pochettino no la la peggiore dell'ipotesi è rientrato anche Bergamo adesso questa Pescara di cui magari ne parliamo poco perché abruzzese e ci concentriamo noi più sulle marchigiane però questa Pescara adesso è una spara molto lunga molto molto grossa molto grossa anche questo Mazzotti da tre che comunque mi piace veramente molto un po' da tre un po' da quattro e un giocatore di assolutamente di di altissimo c'è uno di quei giocatori utili tra l'altro Paglia sempre per parlare velocemente di un pochettino di campo secondo me è tornato di moda il scusate mazzotti mazzarese perdonami non è venuta in modo infatti non capivo però mazzarese mazzarese ovviamente è tornato un po di moda perché anche mazzotti in 3 4 mazzarese volevo arrivare lì adesso il refuso mi sembra che questa B2 il giocatore alla bastone cioè un 3 ultra fisico che possa andare nel 4 stia diventando una variabile molto importante nei roster delle squadre e ce ne sono tanti ci sono mi viene in mente Tognacci e Obieco e la Loreto mi viene in mente appunto Mazzotti mi vengono in mente anche Verri per dire sarebbe la stessa tipologia e ti devo dire che è un ruolo che sta dando veramente dividendo importanti questo tipo di giocatore in B2 tanto è un campionato nuovo per tutti quindi no ha un pochettino dei suoi riferimenti tornando alla miriade di milioni di cose che hai detto in presentazione è ovvio che Loreto Mattelica di settimana prossima ci dice già qualcosina sul campionato nel senso che per me ad oggi Mattelica ha qualcosa in più di Loreto ma lo deve dimostrare ovvio che il fattore campo inciderà ovvio che è la partita di strastra stracartello vediamo perché se Loreto sta lì fino all'ultimo se la gioca eccetera eccetera comunque dimostra che anche forse il peggio è passato c'erano stati anche ventilati venti di insomma di cambio anche di panchina si era parlato di di tante cose no in quel momento in cui ha lasciato giù un paio di partite però come avevamo sempre detto la Loreto è fortissima e deve solo deve solo arrivare con più o meno tutti i trend sono stati confermati non è tanto secondo me la cura Castorina ma è quanto il la cura nuovo allenatore no per vedere l'effetto di Renato dobbiamo aspettare chiaramente tre quattro partite almeno però il cambio ha dato qualcosa nel breve no a questa a questa rosedo che chiaramente tutti i giocatori sentono responsabilizzati quando cambia allenatore quindi no cerchi di fare qualcosa di più non era assolutamente scontato però la rosetta questa la rosetta che noi ci aspettiamo una squadra che ha 80 90 punti nelle mani che difensivamente può fare quasi esclusivamente alcune cose parlo di difesa sul piccaro però per proprio per costruzione fisica dei suoi lunghi però ecco io mi aspetto che magari Renato cambia anche un pochettino alcuni tipi di rotazione sperimenti dei quintetti un pochettino diversi poi ovvio Bartolozzi è rientrato è rientrato anche bene e chiaramente questo cambia no cambia tanto per il resto pisauro un conferma insomma di essere una squadra assolutamente molto molto temibile così come la stamura in questo momento ci conferma di essere la squadra un pochettino più più in down mentre la notizia purtroppo della della settimana arriva no paia da porto dei canati che oltre a cadere fragorosamente con con pescara e che è una squadra attenzione l'avevamo detto una squadra molto talentuosa una squadra che ha a talento ha punti nelle mani e ha due tre riferimenti Ranitovic mi sembra che sia entrato un pochettino in gas il ritmo e sta facendo la differenza e purtroppo Rinaldi ci ha lasciato pare il tendine d'Achille anche se non c'è stato ancora se non sbaglio nessun comunicato però no conferma dovrebbe essere confermato anche dalla anche dalla stampa comunque non c'era non era non so se era uscito il tipo di infortunio quindi veramente sfortunatissima porto dei canati prima a cavernico il crociato poi in al di tenere d'Achille cambia tutto cambia adesso veramente cambia tutto perché fai fatica a tamponare a tamponare due assenze uno e quattro titolare insomma veramente sfortunato un peccato io credo che i fuochi per l'artificio però arriveranno sul mercato a breve perché comunque eh Roseto appunto è vero che ha cambiato guida tecnica e magari aspetterà un attimo il coach di vedere anche il materiale che ha in mano però se ne parlava già prima Claciar era il nome in uscita ma anche lui ha fatto una un'ottima prestazione eh contro contro il Bramante quindi magari si è un po' raffreddata quella quella pista in uscita si parlava di un di un playmaker in entrata e il play mi sembra che li cerchino un po' tutti quanti in questa fase perché appunto il Porto Recanati anche appunto in considerazione del fatto che Caverni e Rinaldi non li rivede fino alla fine della stagione eh qualcosa dovrà fare si è parlato di un playmaker under in entrata era arrivata anche il il rumors di dell'uscita di di Ola Iesi che poteva essere appunto di interesse ma appunto sembra più una una sparata insomma così per per incastri possibili più che per reale per reali interesse però è chiaro che Porto Recanati qualcosa farà perché non può andare avanti senza uno e quattro titolare quindi immagino che qualcosa succederà come qualcosa succederà probabilmente anche sulla sponda Loreto anche lì si cercava un playmaker per puntellare un po' un reparto che ha solo battisti di fatto come eh in regia ma anche per quello penso e si aspetterà in primis quello che succede domenica a Casta Raimondo col big match di Mateli che poi appunto se la squadra trova strada facendo una 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 conformazione una una un blocco insomma che eh dia dia certezze da qua in avanti visto che adesso ha cambiato veramente sempre conformazione questa questa Loreto e tra le altre chi chi già si è mosso sul mercato è stato Teramo e Trovarelli è stato subito decisivo nella partita con con Senigallia Senigallia che era eh veramente non dico buttata alle ortiche ma quasi insomma perché sembrava poterla portare via soprattutto perché veniva da un periodo molto positivo Senigallia che si è rimessa un po' ingarreggiata appunto con questo in queste ultime settimane che trova uno stop abbastanza pesante con questo questo di Teramo ma Teramo che comunque sembra in casa un discorso e fuori un altro fino ad ora perlomeno. Con tutte le squadre giovani però io guarda le ho viste ho visto la partita con Senigallia ho visto anche le altre è comunque una squadra assolutamente insidiosissima eh insidiosissima perché sono tanti eh tutti più o meno uguali con le come caratteristiche no più o meno simili insomma i vari eh di Paolo Trovarelli di Febo tutti più o meno quel tipo di giocatore lì di di uno contro uno eh però sai comunque è una squadra che non ti cala mai di intensità dal punto di vista cioè comunque ti mette sempre sotto pressione una squadra assolutamente interessante eh che che ha induranti chiaramente il leader tecnico come era normale che fosse però insomma una squadra interessante assolutamente anche questo Zanetti che è un tre che gioca un po' da quattro insomma una squadra tosta che come tutto e paia onestamente in questo momento tolta la stavura che mi sembra anche mentalmente e in un momento difficile e anche non so se nella testa dei ragazzi ci sia un pochettino anche la la priorità di dare priorità all'under 19 dove comunque sono ancora in corsa per le finali nazionali rispetto a una B2 dove non lo so cioè è difficile ovvio che quando scendi in campo scendi in campo sempre per vincere però sai giocando 27 milioni di partite l'anno ci sta che non sei sempre al massimo no e sarebbe anche lecito per dare un obiettivo prioritario all'under 19 non lo so è un'idea mia però tolta la Stamora che in questo momento mi sembra anche un pochettino mentalmente più indietro in difficoltà le altre sono veramente tutte squadre dove puoi perdere punti tranquillamente la classifica sta confermando questo perché appunto a parte Ancona che ferma i due punti rimediati alla prima giornata decisamente a sorpresa con Rosetto poi le altre già il penultimo posto è qua da sei e quindi tutto è veramente apertissimo in questa in questa fase e siamo di fatto alla già quasi alla fine del giro dell'andata perché questa questa che arriva è la penultima quindi eh già iniziano a si può iniziare a fare qualche primo qualche primo bilancio sicuramente solito concreto diciamo e tra le se parliamo appunto del prossimo fine settimana eh dicevamo di Madelica Loreto come partita di cartello però interessante sicuramente la sfida tra Bisaurum e Civitanova Virtus Reduce appunto dal KO contro eh contro eh contro Teramo Civitanova scusa scusa lo scorso nel prossimo fine settimana altra partita comunque interessante nell'ottica di schivare quegli ultimi quattro posti perché ricordiamo questa questa formula che divide la classifica poi in tre blocchi da quattro squadre quindi evitare le ultime quattro è importante appunto se c'è da fare la corsa sull'ottava oggi a Teramo e appunto Civitanova che però ne perde un'altra in volata però su quello ci puoi dire meglio tu Gabri merito Pescara perché guarda una partita molto molto equilibrata è stata sempre lì i vantaggi veramente minimi due squadre che hanno messo giù anche una buona difesa due squadre che hanno messo giù anche eh delle individualità importanti Pescara con le sue armi quindi eh sostanzialmente tanta fisicità tanta tanta proprio una squadra anche pesante dal punto di vista dopo che la senti la la pressione che ti mettono a rimbalzo opposta eccetera eccetera Civitanova al contrario è partita con 16 punti nel primo quarto di Arienti che ha fatto un primo quarto veramente irreale che non vedevo da tempo poi ovviamente Riccardo si è un po' spento e secondo me si dà anche molto l'assenza di Bini perché complice alla brutta giornata di di Franco e non Bazzani non parlo dell'ultima giocata che purtroppo è nata così però proprio una brutta giornata al tiro eh Matteo ancora Felicioni è il recupero dal crociato e quindi mancano cioè se se Franco non fa canestro manca no un riferimento molto bene Michalic sono contento sto ragazzo adesso è tornato a fare delle prestazioni molto molto importanti però sai Paglia alla fine della fiera sono gli episodi in questo momento gli episodi un po' per merito degli avversari un po' per demerito di Cittanova un po' anche per semplicemente periodo sfortunato tutti stanno andando nella direzione opposta speriamo che il calendario come parlavamo ieri sera non ci ha molto aiutato nel senso che comunque quello di ritorno è leggermente migliore però questo momento va così che dobbiamo fare speriamo di vincere domenica è ovvio che domenica è importante questo è poco ma sicuro ha da passare la nottata anche in questo caso insomma è sempre lì appunto chiudiamo la nostra anzi la chiudiamo chiudiamo sulla B interregionale ma torniamo sulla B nazionale col nostro ospite di questa settimana che è uno dei marchigiani appunto impegnati nel terzo campionato nazionale ovvero Francesco Reggiani andiamo ad ascoltare e nostro ospite questa settimana abbiamo Francesco Reggiani guardia del basket taranto grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto ciao a tutti grazie a voi per avermi invitato e appunto riavvolgiamo il nastro di questo inizio vostro inizio di stagione due vittorie fino ad ora raccolte peraltro in due scontri diretti comunque importanti con Vicenza e Ozzano come è stato il vostro questo primo mese e mezzo diciamo di stagione anche anzi ormai quasi due mesi vogliamo diciamo e allora abbiamo abbiamo avuto alti e bassi naturalmente siamo una squadra che è molto giovane sta crescendo piano piano con le partite anche contro la partita di Roseto abbiamo potremmo una partita che potremmo vincere però l'inesperienza e altre cose non abbiamo potuto non l'abbiamo portata a casa però devo dire che stanno crescendo e quindi secondo me già dalle prossime partite e dal girone di ritorno secondo me saremo un'ottima squadra migliore di quella che che siamo ora insomma anche perché appunto l'hai sottolineato state comunque il vostro trend è in crescita nell'ultimo anche con Ravenna siete andati vicini al colpaccio ovviamente noi ci leghiamo molto al basket marchigiano hai affrontato già le due nostre Fabriano e Jesi ci parli delle impressioni che ti hanno un po' suscitato tutte e due vabbè Fabriano e Jesi sono due squadre da d'alta classifica Jesi l'abbiamo beccato in un momento magari non molto in forma non erano molto in forma però adesso c'è una squadra forte quindi Fabriano anche lì Granic Bedin Giumbini Stani Centani cioè sono una squadra da prime posizioni quindi abbiamo dato il massimo poi se succede succede di vincere là però è difficile quest'anno appunto hai avuto questa chance in serie B nazionale l'anno scorso hai ritornato in corsa dopo l'infortunio al tendine d'Achille ci hai messo un po' a ritrovare la condizione in cui ti avevamo visto prima negli anni di Alba a Capo d'Orlando ma insomma già dal finale della scorsa stagione si stava vedendo che stavi bene quest'anno veramente fortissimo in questo inizio di stagione no vabbè è stato fermo otto mesi e quindi quelli hanno per fortuna era in coincidenza con l'estate quindi non hanno inciso sulla stagione però di quando ho firmato ad Ancona a dicembre i primi due mesi diciamo che non sono stati cioè mi è servito molto per recuperare il ritmo socializzare con la squadra poi verso la fine ho ripreso il mio la mia forma quindi ho fatto un po' meglio dai stai dando un po' un'occhiata anche ad Ancona immagino che comunque la squadra da cui sei emerso quest'anno è un progetto tutto nuovo con tanti ragazzi che cosa ne pensi insomma di questo nuovo tragitto guarda sono contento secondo me era una cosa che dovevano fare un po' prima perché anche ad Alba ad esempio quando quando giocavo ad Alba loro comunque sia facevano sempre una serie C anche loro da due anni che fanno l'anno scorso la B e quest'anno la B2 con il settore giovanile quindi secondo a mio parere è una cosa importantissima per un settore giovanile e così già affaccia i ragazzi sul mondo senior tra i ragazzi del campo ce n'è qualcuno di quelli che sicuramente riconoscerai più o meno tutti che pensi possa possa avere qualità per emergere in particolare? Sì Piccione che giocava con l'anno scorso che comunque anche l'anno scorso ha fatto vedere quel poco minutaggio che ha avuto verso la fine un po' di più ha fatto vedere che può stare in campo sicuramente giovane quindi c'ha solo da migliorare spero e credo che in un futuro ci potrà giocare tranquillamente Gabri Io mi ricordo di un giovanissimo Francesco Reggiani che lascia Ancona sponda PMS quindi insomma non proprio una scelta facilissima ha un'età molto giovane come pareggia di 14-15 anni è passato un po' di tempo mi racconti la genesi di questa di questa scelta Ma allora mi avevano chiamato ho 14 anni sono andato a Torino ma ho chiamato Pesaro in precedenza però dovevo facevo la terza media quindi spostamenti treno non potevo stare là quindi ho deciso di aspettare un anno ho avuto varie richieste e alla fine ho deciso PMS perché come allenatore c'era Vincenzo Di Meglio direttore sportivo della squadra c'era Bausano eccetera eccetera quindi il loro progetto mi aveva convinto e quindi ho deciso di andare a Moncalieri che differenza hai notato tra una realtà con quella del PMS che sicuramente è più avanti da tanti punti di vista rispetto magari anche alla Stamura e appunto la Stamura da cui tu venivi cioè che tipo di lavoro diverso che cosa hai notato anche a livello organizzativo gestionale Beh allora innanzitutto avevamo 5 foresterie dai 14 fino ai ragazzi di 19 anni fino all'under 18 quindi già lì poi tutto organizzato ti venivano a prendere a scuola ti portavano il pranzo te lo trovavano pronto individuale prima di andare a scuola dopo alle 2 poi in base a com'era io pesavo 59 kg quando sono andato là quindi cioè facevo l'allenamento la mattina poi scuola venivano a prendere individuale e poi allenamento con la squadra e poi c'era negli anni successivi facevo anche la Serie A2 con Torino quindi cioè tutto il giorno praticamente stavi in palestra e basta tipo college americano insomma sostanzialmente esatto 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 ok senti quindi ovviamente lì inizia un pochettino il tuo cammino dopodiché l'esperienza è in A2 voglio sapere un pochettino che impatto hai avuto cosa ti sei reso conto a Capodorlando a Capodorlando all'inizio devo dire è stato un po' difficile perché dalla Serie B non è proprio uguale a livello soprattutto fisico e secondo me in A2 ci sono giocatori che sono dei specialisti cioè sul tiro sul passaggio eccetera eccetera quindi mi sono dovuto specializzare sul tiro e quindi all'inizio del campionato devo dire così così poi dopo ho avuto possibilità dall'allenatore poi dopo è stato esonerato dall'allenatore eccetera eccetera le ultime partite ho fatto bene quindi devo dire alla fine dell'anno sono stato contento ma tu hai fatto la C Gold da Capocannoniere o era la B? sì la PMS C Gold da Capocannoniere e ci avevi? l'ultimo anno 17 sì mi ricordo bene quindi insomma via possono giocare i giovani se sono buono mi confermi che sono i giovani a giocare insomma ecco vuoi tornarci in A2 immagino cioè al di là che l'inforzo è brutto questa estate avevo avuto qualche richiesta però ho preferito al punto di vista sia mentale che a livello fisico dopo l'infortunio avevo bisogno secondo me di giocare e quindi ho preferito non andare anche se magari avrei avuto un minutaggio inferiore perché naturalmente torni dall'infortunio eccetera eccetera quindi ho scelto Taranto e secondo me ho fatto la scelta giusta a proposito di infortunio hai recuperato? ti senti 100%? sì sì adesso 110% è poco non è insomma senti un'ultima cosa la tua evoluzione nel senso che come sei cambiato dal punto di vista tecnico proprio nel corso del tuo percorso giovanile e questo inizio di percorso senior cos'è stato determinante in questo percorso? chi è stato magari determinante? se ci sono state persone o se ci sono state più di un elemento insomma? ma devo ringraziare tutti gli allenatori della PMS da Marco Spano Vincenzo Di Meglio anche il tutor Enrico Pronesti che sviava alle 5 del mattino per farmi fare allenamento quindi da lì ho avuto un'evoluzione sia fisica che tecnica cioè incredibile a livello lavoravamo tutti i giorni sul palleggio sul tiro con gli occhialini per non vedere per terra cioè tutte mille cose poi devo ringraziare Jacomuzzi che comunque sia dopo aver giocato in Serie C Gold mi ha dato la possibilità di giocare 25 minuti 30 minuti in Serie B ad Alba e lì mi ha dato lo slancio per per giocare per tutto per andare esatto Paio penso che te ringraziamenti però una parte ce la dovrà avere anche tuo padre perché comunque lo conosciamo benissimo Andrea che ruolo ha avuto soprattutto all'inizio della tua carriera del tuo percorso? a me, mio papà insieme a mia mamma e mio nonno che sono stati tutti ex gestisti diciamo che mi hanno dato una grande mano infatti all'estate del solito lavoro con con papà a casa tutta l'estate allenamento tutti i giorni quindi sì sì un ringraziamento anche ad Andrea a papà Andrea io me lo ricordo alle due dopo che tornava c'era un allenamento alle due spesso papà veniva su a vederti insomma me la ricordo quella stessa fu epocale anche per noi un palco nara non deve essere stato facile comunque lasciare un figlio 15 anni a 4 ore di macchina e non è da tutti credo che sia da parte tua sì sì però essendo gestisti diciamo che sono stato facilitati perché l'hanno capito cioè l'hanno capito quindi si può dispiacere però allo stesso tempo penso siano contenti guarda io mio amico scusa poi dopo un molto amico di Mamo Benini che ha la figlia che adesso è nel giro nazionale eccetera lui pure alla stessa età l'ha lasciata andare lui pure è cestista perché l'ultima domanda cioè perché bisogna un marchigiano forte 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 ma veramente forte come può essere un giocatore di serie A a due femminile scusa a uno femminile come prospetto Nicole o a due maschile come sei prospetto è costretto ad emigrare cioè che cosa manca secondo te secondo me nelle marche si lavora tanto dai 11 ai 14 anni cioè per dirti la Stamura è bravissima a fare questo cioè penso che sia una delle più bravi ad esempio la Stamura perché ci ho giocato adesso le altre non lo so però poi secondo me manca quello step successivo che poi dovrebbe dire a una società che il settore giovanile poi un giorno diventerà una prima squadra e quindi lavorarci tutti i giorni spendere dei soldi per dirti PMS il primo anno ha speso una quantità di soldi se te lo dico non ci credi però dopo sta lì dopo loro è come se fosse un'attività loro investono su è brutto dire investono sui giocatori per poi come fastello azzurra diciamo dai Paio scusa no no solo un'ultimissima curiosità poi lo lasciamo che è allenamento Francesco abbiamo parlato dell'esperienza a Capodorlando tra l'altro di quella tua a Capodorlando c'è un giocatore che sta emergendo forte quest'anno che è Queen Ellis che sta facendo benissimo in Serie A Trento te lo saresti aspettato a questo livello all'epoca c'è un giocatore che bisogna dargli molta fiducia all'inizio infatti a Capodorlando non è emerso subito perché non giocava e poi infortuni non infortuni eccetera eccetera è stata data la possibilità e poi io dico che un qualsiasi giocatore ha la possibilità di giocare non a qualsiasi livello però ad ottimi livelli se gli viene data la possibilità secondo me alcune volte ci vuole anche fortuna io dico magari Queen è stato fortunato che gli è stata data la possibilità piano piano ha avuto un crescere 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 e poi naturalmente le potenzialità tecniche ce le ha tutte perché se no non riusciva a fare quei numeri in Eurocup eccetera eccetera però magari con un altro allenatore non avrebbe non sarebbe emerso io ti ringrazio Francesco e bocca al lupo per questa stagione che sta che sta entrando nel vivo grazie ciao buon allenamento ciao 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 ed era Francesco reggiani guardia del Taranto basket che appunto sta affrontando le nostre nel terzo campionato nazionale in quello della B1 ora però scendiamo in Serie C Serie C che nello scorso fine settimana proponeva un turno nel quale riposava la capolista Reganati ne hanno approfittato in parte le inseguitrici per per tornare sotto in primis Montemarciano che attualmente occupa il secondo posto solitario è vero la classifica dice meno due però ricordiamoci che Montemarciano ancora deve effettuarlo il turno il turno di riposo Montemarciano che ha vinto una partita anche rocambolesca se vogliamo sul campo di assisti recuperandola nel finale con uno stratosferico vittasali tra l'altro è stato quello forse più in ombra in questo inizio di stagione ha tirato fuori quando serviva una partita veramente veramente super Montemarciano che appunto consolida il suo il suo secondo posto alle spalle risale comunque San Marino che c'entra una bella vittoria contro Perugia Perugia che sa era partita bene poi adesso si sta un po' si sta un po' sgonfiando come si sta un po' sgonfiando anche il basket giovane basket giovane che però anche ridotto in 8-9 nelle ultime partite ne ha rimediati 30 a Porto San Del Pidio nella giornata dell'esordio anzi del terzo sordio ormai di coach di coach Domizioli tra le altre inseguitrici anche la Bartoli Mechanics continua comunque a marciare se non sbaglio terza vittoria consecutiva quella casalinga contro Iesi diciamo che in alto la situazione si sta abbastanza definendo con Re Canati appunto soprattutto Montemarciano che guida il gruppetto delle tre o quattro più prossime inseguitrici poi dietro succede veramente di tutto ogni domenica c'è qualche risultato che un po' scombina le carte penso alla vittoria di Urbania su Gualdo che è vero andare a vincere Urbania non è mai facile però la Gualdo di questo primo mese e mezzo sembrava poterlo fare insomma e invece è un classico esempio di quello che sta succedendo nella parte nella parte medio-bassa della classifica guarda è finito secondo me sta finendo secondo me l'effetto conoscenza del gruppo già dall'anno prima ok ci sta siamo quasi a Natale quindi è normale che chi come avevamo detto le basche giovani di turno veniva da più o meno lo stesso gruppo ha messo Fiano in cascina e adesso ci sta perché prima o poi i valori vengono fuori le squadre nuove come Montemarciano adesso chiaramente ti perdono poco e comunque io fossi Montemarciano sarei soddisfatto nel senso che le ultime partite le sono andate a vincere in rimonta di talento e quindi e sono lì dove devono essere immediatamente dietro alle canati che fa uno sport a parte prima delle normali e poi normali fino ad un certo punto insomma Montemarciano è dovuto tranne che normale onestamente però è la seconda consecutiva che vincono di talento appunto recuperando è una squadra che se sistema un po' la fase difensiva ne perde poche così come San Marino ritrovate le proprie armi ti tiene i 50 punti ti fa giocare male sono grossi sono fisici vanno al loro ritmo quindi un ritmo abbastanza compassato però ti fa giocare male e più o meno Paglia si stanno anche un po' normalizzando le squadre che avevano un po' overperformato parliamo comunque magari di Gualdo che si è una buona squadra ma a un certo punto sembrava l'antirecanati e chiaramente un pochettino sta venendo risucchiata nella lotta il cambio di allenatore anche qui nel breve ha dato come era normale che fosse insomma un boost importante a San Delpidio adesso vediamo con Domiziole insomma si è avviato un corso che tra l'altro dovrebbe anche essere perlomeno biennale come idea non c'è l'ufficialità però diciamo che da quello che trappela dovrebbe essere comunque con una ottica di rimanere anche l'anno prossimo in coda Paglia onestamente Falconara continua a lasciar giù punti e secondo me il problema di Falconara è quello dei lunghi Curzi Luini probabilmente sono due giocatori che sono dei role player in questa C e dargli minutaggio importante senza avere un riferimento importante anche Bonti sostanzialmente perché comunque l'ha fatto lo stesso l'anno scorso a Tolentino sono tutti dei role player e quindi è una squadra che va sul flusso al di là delle difficoltà di allenamento che ben sappiamo che va sul flusso degli esterni quindi probabilmente credo che se ci sarà da mettere in mano probabilmente sarà nel riparto lunghi cosa complicatissima perché mettere in mano nel riparto lunghi in Serie C non è non è semplice continua Assisi vedere Assisi con due vittorie mi sembra veramente il mistero della fede è arrivato anche il comunicato della società che conferma la fiducia bravi a confermare la fiducia perché non è mai facile però onestamente insomma anche ha parlato di pressioni mediatiche capisco tutto però in Serie C che pressioni mediatiche dovrei avere però non lo so però sai vederla laggiù vederla giù sia a Todi che a Assisi no però ha senso certo ha un senso perché comunque è una squadra che se prendi Vujano a Geniac non è sicuramente non puoi stare il penultimo automaticamente ti metti nelle prime otto poi da lì se non ce la fai c'è qualcosa che non torna la parte finale paglia della classifica più o meno ce l'aspettavamo tranne appunto Todi Assisi onestamente grossa grossa difficoltà fa dire che ha perso molto però insomma si è voluto Assisi onestamente ad oggi ti devo dire la delusione più grande ma penso che ne siano consapevole anche loro per il resto bene o male ecco si sta un po' rinormalizzando questa classifica di una Serie C comunque che continua anche a mettere in evidenza giocatori interessanti e io sono sempre molto interessato guardo sempre i tabellini del Metauro ogni settimana c'è qualcuno di diverso a parte Santi che è la costante diciamo il veterano 2002 però dai un campionato che tutto sommato alla fine si sta livellando ovvio che abitati a vedere la B1 e la B2 chiaramente questo livello il salto l'avevo detto più volte è bello grande anche nelle parti alte però tutto sommato divertente tra l'altro nel weekend ritorna appunto il campo Reganadi subito big match tra l'altro venerdì sera l'anticipo abbastanza particolare contro San Marino partita davvero di cartello anche se Reganadi un po' zoppicante a livello fisico dovrebbe anzi sarà sicuramente fuori Marzullo anche problemi anche Gurini era stato squalificato nell'ultima partita quindi non dovrebbe esserci Clementoni in dubbio quindi vedremo se San Marino riuscirà anche grazie appunto a queste a queste assenze a dare a dare filo da torcere appunto a quella che fino ad ora è la dominatrice di questo campionato è l'unica imbattuta tra le altre spicca Monteparciano Foligno anche Foligno una squadra di cui abbiamo parlato poco probabilmente ma che adesso ha ritrovato ritrovato il ritmo giusto era partita molto molto male sembrava anche essere destinata a lottare nei passi fondi invece adesso si è tirata fuori occupa il settimo posto insieme a Porto Sant'Elpidio e questo ricambio che stanno iniziando a fare sta iniziando comunque a dare a dare frutti tra le altre partite anche interessante sicuramente Gualdo Porto Sant'Elpidio appunto perché Gualdo appunto ha una sconfitta da farsi perdonare Porto Sant'Elpidio invece che appunto sta cambiando percorso tecnico diciamo quindi misura anche le sue ambizioni perché comunque è una squadra che ambiva stare subito al ridosso delle primissime ecco sì incroci interessanti ma ogni domenica mi pare che è un campionato infinito sono 300 squadri ogni domenica c'è c'è qualcosa di interessante è ovvio che il big match l'avevo detto la settimana scorsa aspettavo il big match Recanati-San Marino il fatto del capo ovviamente conterà però voglio vedere quanta distanza c'è perché per me c'è una distanza ovviamente tra Recanati e San Marino voglio vedere quanto è grossa voglio vedere se San Marino in un'eventuale serie di playoff può realmente dar fastidio come io credo oppure se questa Recanati continua a fare un altro campionato e vediamo ci dà un'indicazione non ci dice niente non decide nulla però ci dà una piccola indicazione Recanati che tra l'altro venendo da un turno di riposo dopo una partita così io e poi una partita così io avrei preferito fare il riposo dopo perché perdi un po' di quel ritmo di gioco e per quanto fai il makeo e per quanto ti alleni non è mai come giocare quindi da una parte è vero che riposi recuperi un pochettino qualche acciaccato ma dall'altra sei sempre un pochettino fuori il ritmo partito per cui vedo tu San Teppido vediamo adesso vediamo i giocatori comunque ci sono la squadra una squadra che ha talento una squadra che adesso ha tutte le carte in regola visto che comunque da quello che trappella era un cambio un pochettino voluto anche da una parte dello spogliatoio adesso vediamo che cosa viene fuori ovvio che Domizioni porta delle certezze porta uno che è stato lì più volte quindi è anche semplice per Massi inserirsi in questo contesto in un contesto che già conosce quindi qua l'effetto allenatore forse rispetto magari al discorso di Castronelli prima può arrivare molto prima perché è un contesto già dove c'è più conoscenza di cibo assolutamente e appunto siamo in coda anche questa puntata di Markabili se ci state guardando siamo su FM TV canale 75 del Digitale Terrestre o appunto su YouTube al nostro canale I Markabili TV dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti la versione podcast su Spotify o su Apple Podcast un ringraziamento a Basket Market e quindi a Giuseppe Condigiani che ci ospita sulle sue piattaforme l'appuntamento come al solito anche la prossima settimana sempre quasi immarcabili Pierini il tiro il canestro di Attilio Pierini il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area che è